In questo numero del Salus DG, sci e pattinaggio rischio per incisivi tanto quanto abbuffate di dolci. L'esperta, la certificazione dei naturopati dovrebbe essere obbligatoria. Accordo INAIL-IT su protesizzazione ai tech, ricavati più di 10.000 euro dall'asta di beneficenza per la comunità di Sant'Egidio. Gli sport che spopolano sotto Natale, dal pattinaggio allo sci, possono mettere cappò i denti dei bambini. Oltre al rischio di alimentare durante le feste, anche i rischi legati ad alcune attività, tipo il pattinaggio piuttosto che lo sci, e quindi a tutto il possibile aumento di traumi a livello degli incisivi superiori, soprattutto nei bambini che hanno i denti particolarmente esporgenti. In che percentuale c'è questo aumento? Beh, insomma, non abbiamo un dato epidemiologico certo, però sicuramente un aumento tra l'1 e il 3% di queste problematiche le possiamo stimare. La Polimania ha contribuito alla stesura delle linee guida del Ministero della Salute per la Prevenzione e il Trattamento dei Traumi Dentali. Stando alle stime del documento, nel nostro paese sono circa un milione e mezzo i bambini da 0 a 14 anni che hanno avuto almeno un trauma dentale, 1 su 5, in continuamento secondo gli esperti. Sono moltissimi i naturopati in Italia, ma al momento è praticamente impossibile saperne il numero esatto. Troppe infatti sono le persone che lavorano fuori da qualsiasi controllo. E questo nonostante la recente approvazione della legge che obbliga all'applicazione delle norme uni, studiate per garantire ai clienti la qualità del professionista e del lavoro svolto. Una situazione che secondo gli esperti non permette alla naturopatia di essere considerata una professione sanitaria in piena regola. Ma perché? Cosa manca ancora? Ci vorrebbe un pochino più di controllo affinché questo sistema di garanzie diventi un sistema vero, promosso soprattutto dalle istituzioni, perché sì è vero la legge c'è, però diciamo che essendo lasciata alla libera discrezione del professionista, se dare garanzie o meno, questo atto andrebbe un pochino valorizzato. La robotica d'eccellenza italiana in aiuto della riabilitazione per chi ha subito traumi e infortuni gravi, con l'obiettivo di riportarli a una vita normale. È la collaborazione avviata con la firma Roma di un progetto congiunto dall'Inail e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Ci sono due livelli di potenziali ricadute di questo accordo. Il primo, nel merito strettamente delle tecnologie da sviluppare, è quello di un esoscheletro, cioè di un sistema che si può vestire, indossare, che sostanzialmente motorizza le gambe quando hanno perso capacità di muoversi. Il secondo è una mano che con una struttura particolarmente semplice è in grado di compiere oltre l'80% dei movimenti di una mano umana. C'è poi un secondo livello di ricaduta che è più generale. Questo team sviluppa una serie di apparecchiature che servono a riabilitare selettivamente parti distretti del corpo umano, braccia, gambe, caviglie e così via, automatizzando la riabilitazione con dei robot molto intelligenti che consentono un recupero in tempi molto più rapidi, un controllo quantitativo del recupero e soprattutto la parallelizzazione del processo. Si può pensare in futuro di affittare questi mezzi e portarli a casa, collegandoli caso mai tipo iPhone, iPad, diciamo alla DSL, alla rete e quindi di avere delle terapie personalizzate che sono portatili. Si è conclusa la mostra itinerante della campagna Diversity and Inclusion di Baxter che ha visto esposte in tutta Italia opere d'arte realizzate dagli artisti disabili dei laboratori d'arte della comunità di Sant'Egidio già precedentemente ospitate presso la Biennale di Venezia Prima e al Quirinale Poi in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La somma ricavata, un assegno da 10.000 euro, è stata donata da Silvio Gerardi, addi e presidente di Baxter, alla comunità di Sant'Egidio durante un incontro che si è tenuto a Roma presso la Trattoria degli Amici, locale gestito da una cooperativa della stessa comunità e dove da oltre 10 anni lavorano con successo persone con disabilità affiancate da professionisti volontari. Finalmente abbiamo concluso questa asta di beneficenza che la comunità di Sant'Egidio ci ha consentito di fare. Noi abbiamo fatto girare i quadri degli artisti della comunità in tutte le nostre sedi e oggi consegniamo un assegno di 10.000 euro alla comunità che saprà sicuramente come utilizzarli. Siamo molto contenti oggi di aver ricevuto questa donazione che ci permette di sostenere i nostri laboratori d'arte. Noi qui solo a Roma abbiamo 10 laboratori dove persone con disabilità realizzano opere sia di pittura ma anche installazioni. Qui le potete vedere esposte in questo nostro ristorante. Grazie. 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 Grazie.